Bale di gattini cerca, siccome ogni primavera infatti è previsto l'arrivo di numerose cucciolate di piccoli felini, alcuni anche orfani e appena nati. L'appello è rivolto a chi desidera aiutare ad allattare e svezzare i mici fino al momento dell'adozione. Persone che siano consapevole però di cos'è fare la balia. Non è un giocattolo il gattino, va allattato ogni tre ore, va tenuto al caldo, va stimolato per fare sia la pipì che la popò perché da sole non lo fanno all'inizio e quindi va fatto tutto quello che fa la mamma. È difficilissimo, quindi deve essere proprio consapevole che è un impegno grandissimo e è un impegno per due mesi. Oltre a 100 i gattini che lo scorso anno, dalla primavera all'autunno, sono stati accolti e poi fatti adottare dall'associazione animalista retina lo scudo di panna, un copione destinato a ripetersi riga dopo riga anche quest'anno con l'arrivo della bella stagione. Una vergogna se si può dire perché se uno non vuole i gatti basta sterilizzare la mamma. La sterilizzazione è molto importante, è molto importante prima di tutto per non avere le cucciolate ma poi anche se ci sa un maschio è importante perché si evitano le malattie che ci sono, fib, fel, poi nei periodi degli amori ci sono tantissimi gatti morti per la strada. Dall'associazione infine un altro appello, non toccare e soprattutto non spostare i gattini in assenza delle mamme. Noi dobbiamo pensare che la mamma sposta le cucciolate di continuo quando è il momento di spostarle e ne sposta uno per volta, quindi è ovvio che o di qua o di là c'è sempre qualche gattino che rimane solo e se noi stiamo lì a guardarli di continuo o lì nei paraggi la mamma non si farà mai vedere, quindi peggioriamo la situazione.